L'anno scolastico volge al termine e porta con sé un bilancio fatto non solo di voti ma anche di esperienze e ricordi. C'è però, nonostante siamo nel 2023, chi questa possibilità non l'ha sfruttata e chi soprattutto non ha fatto nulla per evitare di far perdere questa grandissima opportunità. I carabinieri da sempre in prima linea nel contrasto alla dispersione scolastica lo sanno bene ed hanno monitorato l'intero anno accademico in sinergia con le istituzioni scolastiche capisaldi di una società civile. Ed è così che i militari della compagnia di Pozzoli hanno raccolto dati allarmanti proprio in quel di Pozzoli e nella vicina quarto. Denunciate per inosservanza dell'obbligo di istruzione 105 persone, padri, madri o comunque tutori esercenti la patria potestà colpevoli di non aver fatto seguire il percorso scolastico ai propri figli. 65 sono infatti minorenni di età compresa tra i 8 e i 14 anni che non hanno frequentato la scuola dell'obbligo. I carabinieri di Pozzoli hanno segnalato diversi nuclei familiari sia la procura ordinaria che quella dei minorenni di Napoli, informati ovviamente anche i servizi sociali competenti per territorio.